Dopo l'entusiasmante consenso ricevuto nell'anteprima alla 78esima Mostra Internazionale d'Arte e Cinematografica di Venezia, la prossima settimana, ma solo per tre giorni, dal 25 al 27 ottobre, sbarca anche nelle sale italiane il film Storie di un impiegato, che con la regia di Roberta Lena ha per protagonisti il ricordo di Fabrizio De Andrè, attraverso i racconti e la musica del figlio Cristiano e di Dori Ghezzi. Ho avuto circa tre anni fa l'idea di rileggere Storie di un impiegato, che è un album di mio padre che era scritto nel 73, ispirandosi al maggio francese, nel quale ho trovato delle analogie con questo periodo che stiamo vivendo, così di farne una sorta di opera rock. Fortissimo il messaggio che esce dal film. Si respira di nuovo un vento di dittatura, di odio, siamo tutti contro tutti, sui social, come la vita reale. Stiamo perdendo l'umanità, la pietà e la compassione verso il prossimo, specialmente verso le persone più deboli, fragili, senza voce. E mano a mano che andavamo avanti in questo tour, quest'opera che abbiamo portato per due anni, che è culminata poi all'Arena di Verona, ci è venuta voglia di quelle immagini che dietro facevano da contorno, in qualche modo, che aumentavano l'emozione del disco, diventassero anche in primo piano, per dare la possibilità anche di fare quello che fa il cinema, di poter entrare in segreto dentro una vita privata di una famiglia. Attraverso il docufilm si è pensato di mettere a fuoco anche il rapporto soprattutto fra padre e figlio e per quale motivo Cristiano si ritrova oggi a portare avanti poi il pensiero di Fabrizio.